Abbassa Laura Pausini e vedrai che diventa Pino Daniele Ok Una persona su tre che guarda per la prima volta un mio video Poi diventa mio follower Se ti piacciono questi video, seguimi Se ti fanno cagare, non seguirmi Iniziamo Ok, questa è Laura Pausini Meno uno Meno due Ecitando i gesti e le parole Ok